Ciao a tutti amici Nel Azzurri, video reaction di Inter Eintracht, purtroppo non siamo a San Siro e gara di ritorno, speriamo si parla solo 0 a 0, siamo tanti squalificati, infortunati panchina cortissima e quindi adesso... Speriamo in bene ragazzi, se non si fanno male entriamo noi Eh praticamente entriamo noi, tra l'altro 7 panchinari, 4 della primavera e un portiere quindi fate un po' voi, speriamo dai, buona visione E' cominciata, Inter Eintracht-Franco-Falte Ma tu, che fortuna, che buco di culo, che fortuna con che si stanno ammazzando Ha fatto un tiro, ha fatto un tiro, no due tiri in un'azione, incredibile che fortuna Tutti i giocatori hanno sbagliato la seconda Cosa ha fatto De Vrij, cosa, cosa, gliel'ha regalato De Vrij raga 1 a 0 l'oro col palo, regalato da De Vrij 0 a 1 l'oro regalato da De Vrij Così come col Barcellona San Siro L'ha trovato? 5-5 il primo tempo di Inter Eintracht 0 a 1 Brutto primo tempo Si deve fare di più In realtà dobbiamo per forza ribaltarla se vogliamo passare Inizia anche il secondo tempo D'Interant Siamo obbligati a ribaltarla Se vogliamo passare il turno Molto difficile ma speriamo E sono curioso anche dei cambi che potrà fare Mr Spaletti Dove l'abbiamo preso? Abbiamo trovato un nuovo compagno per la sera L'ho visto dentro L'avete fatto il gol della vita Il gol della no Paratone di Samir E' il portiere più forte Grande Samir Non lo incontavano fino a tre giorni prima Come il gol di D'Ambrosio E' finita così Si è una partita che la nostra Europa League Brutta partita ragazzi Zero Grazie a tutti